E dunque al sabato di Just Today è giunto il momento di dare la linea alla nostra inviata speciale, Sor Maria Vittoria. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti amici che ci seguono tramite TV Padre Pio. Ecco, oggi ci troviamo nel centro di riabilitazione motori Angeli di Padre Pio a visitare le Apostole del Sacro Cuore fondate da Madre Gargani. Ecco con noi, superiore di questa comunità, Suor Noeli. Ecco, Suor Noeli, vorrei chiederti chi era Madre Gargani e come è avvenuto questo incontro con Padre Pio perché sappiamo lei è anche figlia spirituale di Padre Pio e come erano i inizi di questo istituto. Grazie. Come l'ha appena detto Sor Vittoria, siamo le Sore Apostole del Sacro Cuore fondata dalla Beata Maria Gargani il 21 aprile 1936 a Volturara. Maria Gargani è nata da una famiglia religiosa praticante il 23 dicembre 1892 a Mora de Sanctis, nella provincia di Avelino. Suor Noeli, ma come è avvenuto questo incontro con Padre Pio tra Madre Gargani e lui? Come è avvenuto questo incontro? Allora, stando a San Marco la Catola, la Beata Maria Gargani comincia un intenso accompagnamento con Padre Pio a San Giovanni Rotondo fatto di colloqui e di corrispondenza. La Beata Maria Gargani non aveva in testa l'idea di fondare una congregazione. Lei voleva entrare in un istituto religioso, le Brigidine, ma Padre Pio la dissuase e diceva «No, non conviene spegnere la lampada accesa nel buio». All'epoca Maria Gargani non capiva questa espressione, però obbedì a Padre Pio. Dopo un lungo cammino di discernimento, Maria Gargani ebbe l'idea di fondare un nuovo istituto e accennò questa idea a Padre Pio. E Padre Pio rispose «È bello, qui dovevamo arrivare, questa è la volontà di Dio, fai presto ad andare dal Vescovo». E quindi avuta la conferma, Maria Gargani va dal Vescovo di Lucera che lì approva il 11 febbraio del 1936 il decreto della Pia Unione. Poi successivamente, il 21 aprile, i cinque primi membri della Pia Unione iniziarono la vita in comune nei locali vicino al santuario della Madonna della Sanità. Ecco come nasce il nostro istituto. Da lì l'opera si sviluppò e piano piano Padre Pio continuò a guidare la Gargani per tanti tempi attraverso le corrispondenze. Quindi l'ha accompagnato anche in questa fondazione? Sì, sì. Praticamente per noi è come un cofondatore Padre Pio perché ha seguito passo dopo passo l'inizio della vocazione di Maria Gargani e anche l'inizio dell'istituto. Madre Maria Gargani era un'insegnante, quindi aveva anche sotto cura dei ragazzi, no? Voi cosa fate come apostolato? Il vostro carisma ha continuato ad essere quello che lei faceva prima? Sì. Sotto le orme di Maria Gargani, noi sore apostole del Sacro Cuore continuiamo ad amare, riparare e consolare il cuore di Gesù, trovare altri animi che lo amino, riparino e consolano le altre anime che hanno bisogno. Perché Maria Gargani aveva una preselezione per le persone povere e marginate, quindi è quello che noi cerchiamo adesso di portare avanti. Siamo nelle parrocchie attraverso la pastorale parrocchiale, siamo nell'insegnamento nelle scuole e siamo negli ospedali per quanto riguarda l'assistenza della malato e della persona sofferente. Ed è quello che giustifica la nostra presenza qui a San Giovanni Rotondo, in questo centro di riabilitazione, per chinarsi su ogni persona, ogni fratello e proporre la pace che Cristo ci ha lasciato. Quindi lo facciamo con tutto il cuore. Sicuramente qua tanti nostri telespettatori che ci guardano adesso sicuramente ti riconoscono perché tu stai nelle corsie di questo centro e porti amore e pace a questi infermi che si trovano qua. Potresti raccontarci qualche episodio, qualcosa del tuo ministero qua che ti ha più colpito, ti ha aiutato nel tuo cammino? Sicuramente hai tante esperienze con i sofferenti. Sì, allora io dopo il noviziato sono stata mandata come prima comunità qui a San Giovanni e quindi diciamo che San Giovanni è la mia prima realtà in quanto religiosa. All'epoca c'erano i bambini non vedenti, poi sono tornata in Africa per altra missione ed eccomi nel 2014 sono ritornata a San Giovanni e ci vivo fino ad oggi. Allora stare con la malato, noi impariamo molto dalla persona sofferente. A volte pensiamo che noi diamo qualcosa ma in realtà noi riceviamo da loro perché sono persone provate dal dolore che fanno prova di fede e di speranza e hanno bisogno di capire con noi che cosa vuol dire stare in questo letto di dolore e della sofferenza. Io qua ho visto toccato con mano la sofferenza e ho imparato a relativizzare ogni cosa in base all'amore e alla fede. Tutto passa, dobbiamo dare assolutamente, ringraziare assolutamente il Signore per il dono della salute tutti i giorni e aiutare i nostri fratelli provati dal dolore e dalla sofferenza. Noi abbiamo tanti pazienti che ogni giorno aspetta da noi il minimo, il sorriso, una carezza, uno che li va accanto per chiedere come stai oggi, come hai passato la notte e piano piano noi incontriamo Cristo in queste persone sofferenti e impariamo a non dare peso alle banalità della vita ma a custodire la vita ogni giorno perché la vita è un tesoro tra le nostre mani e dobbiamo custodirla giorno dopo giorno. Bello questo Sor Noel perché in fondo è anche questo carisma di Padre Pio portare quel sollievo che lui portava attraverso la sua preghiera, il suo consiglio, il suo sacrificio a tanti in tutto il mondo e lo fa fino ad oggi e voi siete anche prolungamento della sua vita a questo punto. In questo centro anche voluto che fa parte dell'opera di Padre Pio perché dicevi prima qui c'erano i bambini non vedenti e che avevano diverse problematiche e poi questo centro si è esteso a questo livello diciamo di fama nazionale. Il centro porta proprio il nome Angeli di Padre Pio perché dobbiamo essere angeli gli uni degli altri. Tutte le persone che stanno qua sono angeli nel senso che hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro per andare avanti. E noi l'attività non è solo assistenza infermeristica o medica ma è anche preghiera e avvicinanza nel senso che dobbiamo credere che stando nel letto del dolore il Signore si è accanto, non ci ha abbandonati. Questo deve essere il messaggio forte da passare e noi prendiamo Padre Pio come esempio e crediamo fortemente che con la sua intersessione noi possiamo anche noi dare un altro valore alla sofferenza. non è solo sofferenza ma è sofferenza trasformata con la grazia diventa dono, diventa un tesoro però da vivere tutti i giorni. Con una fatica però questo che dice è veramente molto bello. Sì, sì, è faticoso però come si suol dire si è stanca ma felice perché quel poco che diamo lo diamo con tutto il cuore ed è quello che conta. Sì, i pazienti lo sentono. Sì, 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 noi lo percepiamo dallo sguardo dei malati. Come si dice stare insieme ci si capisce dallo sguardo. Soro Noeli, ma vorrei chiederti in quale parte del mondo vi trovate? Quanti, quanti... Ok, allora noi siamo di fondazione italiana però la madre Gargani vuole che l'opera varca le porte dell'Italia. Effettivamente il 4 ottobre 1984 le prime missionarie sono state mandate in Burkina Faso per condividere il pane della verità carismatica. Allora posso dire che noi siamo frutti di quella missione e quindi dall'84 che siamo in Burkina Faso e adesso abbiamo sei comunità in Africa, cinque nel Burkina e una nel Chad. Quindi ringraziamo il Signore e adesso dalle comunità della missione abbiamo tante vocazioni. ringraziamo il Signore, sì, che dopo la professione, la prima professione, vengono qui in Italia per conoscere le fonti dell'istituto e per capire meglio il carisma. L'ultima domanda, ecco, dopo tutto questo interessante racconto, se casomai qualche ragazza ci segue in questo momento, se tu ci puoi suggerire dove si potrebbe rivolgere, casomai vorrebbe fare un'esperienza con voi, una settimana di ritiro o qualcosa di questo genere o conoscere meglio il vostro istituto, dove potrebbe cercare più informazioni? Ok, noi abbiamo una pastorale vocazionale e abbiamo un'equipe di sore che seguono le giovani che vogliono fare esperienza con noi. Abbiamo un sit e una sora responsabile che chiunque volesse entrare in contatto con noi può chiamare al numero di questa sora e può anche andare sul nostro sit per prendere informazioni. Altro, non so dire che ringraziare per questa opportunità che ci date di... Grazie Sir Noel per queste belle parole che ci hai detto. Veramente sono contenta di averti conosciuto meglio, conosciuto il vostro istituto e sono felice che anche i nostri telespattatori hanno possibilità di conoscere più da vicino le suore apostole del Sacro Cuore, Madre Gargani. è questa realtà che sta qui a San Giovanni Rotondo e collabora con l'opera di Padre Pio, con il santuario anche. Grazie e salutiamo adesso tutti i nostri telespattatori e al prossimo appuntamento restituiamo linea a Toni. Grazie e buona giornata. Grazie.